Ciao a tutte, bentornate sul mio canale. Questo è un video collaborazione fatto con Kenny Graphic Art, che ringrazio per avermi chiesto di fare questa collaborazione. Allora, il tema della nostra collaborazione è un disegno fatto da noi a tema bambini, quindi per bambini. Abbiamo scelto lo stesso disegno e l'abbiamo interpretato in due modi diversi. Allora, vi faccio vedere il mio completato, che è questo. Poi io l'ho attaccato su un cartoncino e gli ho scritto il nome della bambina a cui verrà regalato questo disegno. Nell'info box lascio il link al video di Kenny, al suo canale e ai suoi social. Andate a seguirlo, mi raccomando, guardate il suo video. E niente, se non siete iscritti, iscrivetevi al suo canale. E vi lascio al video disegno. Oh! O Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.